Premio Batflag, Ippica Viva, 2060 metri in prima fila, 1 Angel Nico, Massimiliano Castaldo, 2 Urgino Tuor, Marcos Borgon, 3 Urbano Perf, Marino Lovera, 4 Uche, Vela, Rico Colombino, 5 Uranio CR, Lorenzo Pesana, seconda fila, 6 Unlight Crip, Santo Mollo, 7 Undebei, Luca Lovera, 8 Urano Zactasti, Edoardo Locisano, 9 Uranium B, Andrea Guzzinati, 10 Ursula degli Dei, Antonio Melotti, senza perdi anteriori, Urano CR, senza perdi, New Light, Gris. Un attimo c'è un cavallo fermo lì. Un attimo c'è un'azienda, 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 un' Chi siamo potete linearvi I cavalli si avviano alla partenza a contatto uno con l'altro, a contatto uno con l'altro Concorrenti verso il nastro di partenza Andate su dritti e aspettate il segnale Restate a contatto fino alla fine Piano Sono dritti Pronti? Uno, due, tre Valido il segnale Ha sbagliato Uncino Tour Ha sbagliato Urbano Ferm Numero tre Urbano Ferm Squalificato All'avanguardia Uncle Nico Nico continua al comando Tanto i duecento e sessanta si passano in ventitré e due Diciassette niente gli ultimi duecento Progredisce Ursula degli Dei Che in breve passa in seconda posizione Si profila ai bianchi di Uncle Nico Sta per scavalcarlo e così è Ursula degli Dei in nuova battistrada Avanti ad Uncle Nico 42, 460 Diciassette niente gli ultimi duecento Sbaglia però Ursula degli Dei Ritorna così all'avanguardia Uncle Nico in seconda posizione Young Light Grip In terza Ukebela Poi in quarta Quarta posizione c'è intanto Urano Zack Dusty Percorsi esterni La favorita Uranium B Si esce dalla piegata Gli 8,60 In 1,13,8 La media di 1,25,8 17,1 gli ultimi duecento Uncle Nico che fa in datura Al suo esterno Si sta profilando Uranium B Che ha in scia Uranio CR I 1,60 metri 1,29,6 15,8 Il duecento della retta 33,6 Il secondo quarto Uranium B A lato di Uncle Nico In terza posizione Numero 5 Uranio CR Squalificato Uranio CR Migliora Un Debei Con in scia Un Cino Tour Sempre in vantaggio Uncle Nico Premia al suo esterno Uranium Phi Tanto In prossimità Dei 600 finali Tempo di 2,00,2 Gli ultimi duecento In quindicine Numero 10 Ursula Degli Dei Squalificato Squalifica per Ursula Degli Dei Uncle Nico mantiene il comando Al suo esterno Sempre Uranium Phi In terza posizione Rimane sempre Un Light Crip 2,14,5 Per il miglio allungato 14,3 Gli ultimi duecento 29,3 Il quarto Presso in addirittura Con anche il Nico Sempre apprezzato Da Uranium Phi In terza posizione Ancora Un Light Crip Con in fuori Un Debei Insiste Andrea Guzzinati Con Uranium Phi Che però sbaglia E così Uncle Nico Verso il traguardo Avanti a Un Light Crip In terza Un Debei Poi Uche Bela E Uncino Tour 14,5 Gli ultimi due 29,4 Il quarto conclusivo Dopo il 29,3 Della penultima frazione Tempo totale 2,43,9 Medi al chilometro Di 1 19,6 Per il premio Petlag Ippica Viva 1 Uncle Nico 6 Un Light Crip 7 Un Debei Il passaggio Al traguardo 2,4 3,5 2,4 2,5 3,6 2,7 1,6